Risolvono la serie in due sole partite, Virtus Ruvo di Puglia e Murgia Santeramo che conquistano la salvezza a scapito di Ormor Lecce e Angiulli Bari. Il campionato di Serie C emette altri due verdetti condannando alla retrocessione le due formazioni peggio piazzate al termine della stagione regolare. Il Ruvo di Coach Rovino passa a Lecce per 77-52 mentre Murgia e Spugni a Bari dopo un tempo supplementare per 75-68. Un risponso accettato con serenità dalla panchina dell'Angiulli e che vale la permanenza del Santeramo nel massimo campionato regionale per il quarto anno consecutivo. La partita ha dimostrato sicuramente che le due squadre si possono equivalere da un punto di vista del campo. Tecnicamente abbiamo dimostrato sicuramente qualcosa in più, però purtroppo un po' il cuore ci ha penalizzato e abbiamo comunque si ha portato un tempo supplementare per arrivare quasi alla vittoria ma purtroppo l'abbiamo dovuta lasciare alla squadra avversaria, meritatamente al Santeramo. Penso che questo sia un risultato positivo per la nostra società, soprattutto perché è raggiunto con ragazzi tutti quanti di Santeramo che hanno avuto la possibilità di crescere e di maturare molto in questa stagione. Avevamo in campo spesso giocatori di 18-19, massimo 20 anni. Io penso che sia una buona base da cui partire, si potrebbe sicuramente continuare con questo roster, al massimo con un paio di innesti. Io penso che se le società a questi livelli hanno la capacità di costruirsi in casa i propri giocatori sia la prospettiva migliore. In Serie D bastano due incontri per definire la finale play-off. Sarà Sunshine Vieste e Mensana Mesagne, seconda contro terza in stagione regolare. Troppo forti le due compagini per le squadre monopolitane che si sono arrese anche sul proprio campo dopo due partite combattute. Al pala Ipsiam, Pimonopoli cede per 69-74 dopo aver coltivato la prospettiva di un pareggio, soprattutto nel terzo periodo. Decisivo un irresistibile l'Escot dalla linea dei tre punti per il successo di Mensana, imbattuta nei quattro scontri diretti in questa stagione. Scarto di più 6 per Sunshine Vieste in casa dell'Action Now e partita chiusa sul 70-64. Spazio ora, gara 1 delle semifinali di play-off di C. Una è Cestisti-Costuni contro Daelmon Foggia, l'altra Nuovalius Sansevero contro Olimpica Cerignola. Fine settimana significativo anche per gara 2 dei play-out di Serie D. A Rutigliano, l'Olimpia ospita Anspi-Santarita. A Martina Franca, la Basket School gioca contro Magic-Galatina.